Bentornati su MyFootballJersey, oggi vediamo questa maglia Statement Edition dei Toronto Raptor per la stagione 2023 in edizione Swingman! Grazie a tutti! Questa maglia non mi dispiace, nella mia classifica prende 3 stelle, bello il contrasto nero e rosso e bello questo fulmine riportato diciamo sulla trama. Il costo come al solito lo vedete qui sopra, non aggiungo altro, un altro, un costo molto conveniente per una maglia fatta bene che arriva anche molto velocemente, questa è arrivata in 21 giorni. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere quali offerte il sito prepara per voi. Ora prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando regalateci un grosso like e iscrivetevi al canale, vi ricordo che è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media.